Hai mai saputo che esistevano gli atolli oceanici di Arnadù dove i pescatori si immergevano per cercare le perle nel profondo blu e dicevano lì dentro c'è di sicuro una perla talmente preziosa che tutti vorrebbero avere ma sì lì dentro c'è di sicuro una perla talmente preziosa che ha tanto bisogno d'amore lo sai che c'è anche un'ostrica speciale che il coltello più affilato non aprirà mai mai si stringe così forte forte senza mollare per proteggere la sua perla dai guai perché lei sa che lì dentro c'è di sicuro una perla talmente preziosa che tutti vorrebbero avere ma sì lì dentro c'è di sicuro una perla talmente preziosa che ha tanto bisogno da mare ah 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 c'è di sicuro una perla talmente preziosa che tu se vuoi chiama la speciale ma sì lì dentro c'è di sicuro quella perla talmente preziosa che ha tanto bisogno di te lo sai che esistono persone speciali sono quelle meravigliose come te che mai e poi mai e poi mai ti tradirebbero per poi portare al collo un pezzo di te perché sanno che tu dentro hai di sicuro una perla talmente preziosa che nessun ladro potrà mai rubare ma sì lì dentro tu hai di sicuro quella perla talmente preziosa che quella perla sì quella perla preziosa sei te sì lì dentro di te Grazie a tutti.